nella prima lezione appunto parleremo della respirazione parleremo degli organi deputati alla fonazione quindi naso bocca forma della testa laringe faringe corde vocali e il diaframma che è il muscolo principale che gestisce gli scambi gassosi con l'esterno vi descriverò al meglio come nasce la vostra voce come nasce la nostra voce e che cosa la caratterizza tutti gli aspetti della voce e sono infinite vi assicuro è è un argomento potenzialmente vastissimo e vi suggerirò già i primi esercizi per potenziare la vostra voce nella seconda lezione parleremo del suono degli accenti fonici che sono diversi dagli accenti tonici e faremo finalmente conoscenza con le nostre amiche vocali che attenzione non sono cinque ma sono sette le vocali parlate sono sette e parleremo dell'accento tonico pensate alle differenze che c'è fra compito e compito è una fesseria graficamente ma nella realtà cambia molto parleremo della scansione sillabica che cosa è che è un argomento importantissimo per parlare bene infine suggerirò voi degli esercizi di lettura attenzione perché a partire dalla lezione numero due mi odierete molto con questi esercizi di lettura per cui vi invito a prepararvi nella terza lezione parleremo delle regole d'accentazione e qua si apre veramente un universo e sono sicuro che starete attentissimi un argomento che a me tantissimi anni fa affascinò molto ci sono un sacco di eccezioni tra l'altro nella nostra bellissima lingua che lingua italiana almeno se vogliamo pronunciarla con perfetto accento italiano e impareremo a conoscere e a fare nostri gli accenti regionali e soprattutto ad eliminarli cioè farli nostri per riconoscerli ed eliminarli dalla loro radice per parlare in perfetto italiano anche nella terza lezione ci saranno appunto degli esercizi di lettura nella quarta lezione parleremo approfonditamente delle consonanti s e z perché si possono pronunciare in due modi diversi c'è differenza fra una s e una s ok e c'è differenza fra una z e una z parleremo dei gruppi sillabici gl e sc anche lì probabilmente molti di voi ci impazziranno sopra un po però vi assicuro che è interessante e poi parleremo delle parole che possono creare confusione quindi gli omonimi che sono detti anche anfibologici e vi suggeriremo anche in quel caso degli esercizi di lettura nella lezione numero 5 si parlerà della scansione sillabila bravissimo bravo faccio anche lo speaker della scansione sillabica e dell'articolazione dei suoni vi parleremo della pausa e della punteggiatura aspetti imprescindibili per parlare bene e per parlare in maniera interessante attenzione è facile parlare monocorde lo fanno già tutti lo fanno anche i preti però non è molto interessante e anche al termine della quinta lezione vi suggerirò degli esercizi di lettura quelli della quinta lezione poi sono incredibili nella lezione 6 parleremo del gesto del tono della ricerca della parola chiave nel discorso è una specie di di mito che alleggia nell'aria nessuno sa mai bene che cosa significhi ma vi assicuro che è indispensabile e poi del volume e dell'intensità cioè il volume della voce perché c'è molta differenza fra parlare così e fra parlare così c'è una grandissima differenza di suono e poi dell'intensità l'intensità non ha molto a che fare col volume a che fare più con la pasta della voce con il suono che riuscirete a tirar fuori dalla vostra bocca e vi parleremo al termine della lezione 6 anche degli elementi indispensabili per parlare correttamente per tenere viva 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 l'attenzione di chi ci ascolta al termine naturalmente gli mancabili esercizi di lettura lezione 7 parleremo del colore della voce che ha a che fare proprio con il timbro della nostra voce che in parte si può modificare ma in larga parte in definitiva è quello che la natura ci ha dato del ritmo cioè della velocità con la quale articoliamo le parole della lettura dell'espressione e soprattutto dell'interpretazione perché c'è una grande differenza fra leggere per sé un testo scritto e leggerlo invece alla vostra platea parleremo rapidamente della dizione poetica non è esattamente il mio ambito quindi cercherò di usare parole molto semplici e di spiegarla piuttosto rapidamente al termine avete indovinato esercizi di lettura nella ottava lezione parleremo di come usare la voce in modo diverso a seconda di occasioni diverse e anche qua scoprirete quanto è facile ma per certi versi anche molto difficile impostare la voce in modo appropriato a seconda di quello che andrete a fare se è uno spot se è un documentario se è un servizio giornalistico se è una diretta televisiva se è una diretta radiofonica nella diretta radiofonica credo che moltissimi di voi pensino che sia una cosa semplice che si usa la voce in modo naturale non è per niente così spiegherò tenterò di spiegarvi il fascino del parlare in pubblico e cercherò anche di avviscerarne un po le difficoltà caratteristiche spiegherò come tenere alta l'attenzione oppure come produrre appunto uno spot un comunicato commerciale un documentario un filmato industriale una segreteria telefonica sono difficilissimi le segreterie telefoniche sono molto difficili da fare perché le parole sono sempre le stesse sono non più di una dozzina di parole vanno articolati in modo molto preciso per dare l'idea di non essere dei robot ma anche per tentare di tenere altissima l'attenzione ed evitare che l'interlocutore metta giù attenzione questo è un aspetto psicologico molto importante nella lezione 8 si parla anche di doppiaggio so che molti di voi vorranno poi diventare dei doppiatori e vi parlerò di come registrare la propria voce senza paura e in piena consapevolezza io in questo momento in definitiva sto registrando la mia voce non che sia una novità lo faccio dalla mattina alla sera da lunedì al sabato per cui è una cosa che mi viene molto naturale ciò nonostante ogni volta che vedo diventare rosso questo coso che nel mio caso protools l'apparecchio che uso per incidere la mia voce non voglio dire che mi si stringe il sedere però attenzione mia moglie dice che sgrano gli occhi quando incido perché probabilmente finisco per tendere dei muscoli anche inconsapevolmente che mi danno diciamo quella grinta quella spinta emotiva per fare molto bene quello che sto facendo e c'è un aspetto che riguarda la consapevolezza dell'emesso cioè del suono che esce dalla vostra voce ma sono sicuro che arrivati alla lezione 8 sarete già molto più consapevoli di quello che state facendo e di come lo state facendo nella lezione 9 che è la penultima vi parlerò delle tecniche di ripresa della voce questo è uno degli ambiti che forse anzi senz'altro mi ha spinto a diventare professionista della voce cioè la parte tecnica sono sempre stato molto innamorato della parte tecnica del mio lavoro e che ho gestito diciamo in definitiva in maniera quasi simultanea all'uso consapevole della voce cioè mi piace tantissimo fare lo speaker ma mi piace anche tanto fare il tecnico del suono che è un aspetto che mi riesce anche credo molto bene per cui in questo senso avrà cose molto interessanti da dirvi vi parlerò della psicoacustica una cosa che senz'altro pochissimi di voi sapranno se non forse più tecnici è che le orecchie hanno una percezione del suono un po' caratteristica non percepiscono tutti i suoni alla stessa maniera o meglio non percepiscono tutti i suoni alla stessa intensità e tutto questo è legato in maniera molto stretta precisa quasi matematica alla frequenza del suono le orecchie dell'essere umano sono state concepite e realizzate per ascoltare molto bene i suoni della voce e i suoni della natura umana in generale per cui tutti quei suoni che sono lontani per contenuto frequenziale dai suoni della voce sono tra virgolette un po' snobbati dalle orecchie per cui un suono che ha una frequenza dominante piuttosto bassa butto lì una frequenza diciamo 80 hertz che può essere il suono il suono primario di una grossa bomba o il suono di un basso elettrico o il suono della gran cassa della batteria quel ecco quello è un suono che l'orecchio umano non è abituato a percepire per cui lo sente proporzionalmente molto più basso rispetto a ai suoni invece della voce che sono su frequenze medie i classici 3 kilohertz 5 kilohertz per converso a salire di frequenza l'orecchio fa la stessa cosa cioè tende a dimenticare a non ascoltare a non valorizzare i suoni oltre un certo contenuto frequenziale fino a perderne del tutto l'armonia a partire da 15 kilohertz chi dice che sente fino a 20 kilohertz in realtà mente perché non è vero si dice per convenzione che l'orecchio umano sa ascoltare da 20 hertz a 20 kilo ma io no moltissime delle persone che conosco e che ho studiato no per cui in definitiva l'orecchio umano smette di sentire dai 12 13 mila hertz in avanti e vi parlerò sempre nella lezione 9 delle tecniche di post produzione dell'audio e vi parlerò anche del mix tecniche di post produzione è un parolone per descrivere una cosa molto semplice cioè per descrivere cosa si fa alla voce dopo che la si è registrata cioè quali plugin vanno applicati sul registratore digitale do per scontato che tutti noi usiamo un registratore digitale i bobine sono finiti tantissimo tempo fa quindi vi parlerò della serie di plugin da applicare per dare spinta per dare forza alla vostra voce e poi vi parlerò delle tecniche di mix le tecniche di mix sono per esempio mia madre non crede crede che in natura i suoni siano già miscelati in realtà non è così quando tu ascolti una canzone c'è dietro un lavoro che non riguarda soltanto chi l'ha scritta chi l'ha cantata e chi l'ha eseguita c'è un grandissimo lavoro di mix cioè c'è un lavoro molto profondo che riguarda come i suoni sono stati messi assieme come sono stati miscelati diciamo che nel mio ruolo di sound designer credo di potermi esprimere al meglio sotto questo profilo ne parleremo bene nella lezione numero 9 sempre all'interno della lezione 9 cercherò di insegnarvi a incidere la vostra voce e a lavorarla al meglio dandole profonda energia tecniche di mix l'abbiamo detto per imparare come emissare la voce con gli altri suoni tipicamente sono i cosiddetti sound effects quindi scritto fx ma in realtà è un acronimo strano per indicare la parola inglese effects che vuol dire effetti quindi i suoni e le musiche che si mettono insieme per registrare contenuti di audio professionale vasti come per esempio il doppiaggio di un film viene doppiato ma poi qualcuno deve anche post produrre come mixare uno spot che è una cosa secondo me anche molto allegra e divertente e un breve cenno sulle tecniche di mastering il mastering è una tecnica mediante la quale un buon mix prende veramente il volo e può andare on air non si possono non ci si può esimere dal miscelare gli strumenti musicali e poi lasciarli però così com'è no si miscela la voce gli strumenti musicali sound effects ma poi c'è un lavoro di ulteriore post pro che si chiama appunto mastering poi vi spiegherò bene cos'è vi farò vedere i plugin più importanti in questo ambito e poi vi farò vedere molto a fondo invece quelli che uso io la lezione 10 sarà una breve lezione riassuntiva cercheremo di indagare nuovamente su quello che abbiamo imparato quindi la respirazione diaframmatica della quale a breve vi parlerò che cosa è importante ricordare della dizione e che cosa invece si può tranquillamente dimenticare cosa è indispensabile per articolare e rimettere al meglio quale chiavi di lettura utilizzare per esprimere a voce il contenuto di un testo questo vi assicuro che è un aspetto importantissimo poi io li ho chiamati tips and tricks ma perché così ho la sensazione che si usi dire tips and tricks in realtà si può tranquillamente evitare di essere anglofoni a tutti i costi anzi in definitiva io sono un professionista della lingua italiana per cui cercherò di usare al massimo l'italiano e in generale i foresterismi nel mio ambito non sono graditissimi perché tanto li pronunci male noi siamo nati con la nostra lingua moriremo con la nostra lingua è stato scoperto di recente che ci sono delle specie di filtri cerebrali che si attivano nel momento in cui uno nasce e comincia ad assorbire i primi fonemi della propria lingua di origine i filtri tenderanno a parzializzare il contenuto verbale che ci verrà recapitato dalle orecchie al cervello e a valorizzare quasi esclusivamente quello ecco perché un bambino che nasce in italia e tipo fino a cinque anni in italia parlerà benissimo la sua lingua e malissimo qualunque altra lingua che imparerà per quanto si possa imparare a fondo una lingua in età che non sia la primissima infanzia sarà sempre una lingua mal pronunciata sarà sempre una lingua pronunciata con un accento più o meno forte italiano per cui tant'è cerchiamo di imparare bene il nostro il nostro accento visto che siamo italiani e tutto tutto questo naturalmente non implica minimamente che io sia autarchico o appassionato innamorato dell'italia sono innamorato della mia lingua ma semplicemente perché la mia quindi mi piace l'italiano perché la lingua con la quale sono nato e sono cresciuto mi piacciono anche altre lingue mi piacciono tantissimo alcune altre lingue ma l'italiano è la nostra per chiudere gli ultimi ultimissimi suggerimenti per intraprendere la carriera dell'uso professionale della voce